Ehi salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio che sarebbe proprio l'ultimo Dalla che poi ci stiamo avvicinando al finale Ringrazio a tutti voi per aver seguito questa, diciamo questa breve serie, let's break Perché non è che dura tanto sto gioco A parte che credo che comprerò la con le torre di CoronaPasteWitch Forse non so, PasteWitch o SuperPS4 lo comprerò, non so Ma non lo so Ok, quindi dobbiamo gonfiare i nemici Quindi dobbiamo fare 5 dannoni per poter Fattere questo boss fight Vediamo, prepariamoci per il finale Vi ringrazio comunque per aver seguito tutta la serie Ok, qua non sarà facile Qua questa, la boss finale sparerà una serie di attacchi al raffico E mi dimentico di saltare E' buono Via 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 da qui, via da qui, via da qui Sono due Dai, mancano tre Via Oddio, meno male che sono saltate interi Che credo che deve avere buon dedo Si muo pure qua Fatti che poi Gadus si è trasformato Ecco Come avete visto nello show Nel penultimo episodio E qua spara di nuovo E mi scordo di saltare E mi scordo di saltare Infatti che non ci Sperando che ci invierà qualche Tipo qualche cosa che vede per recuperare la vita Nel caso siamo Qua dobbiamo saltare Ma porca trova Ce l'avevo saltata Perché no Sono riuscito a schivare Maggi Volevo vedere che Non sono preparato Ci devo prendere la mano Contro La boss fight A meno che non recupero la vita Perché La boss fight finale Ha Ha due fasi Se sono la prima fase Della boss fight finale Ok Schiviamo Ok Ma questi qua partiranno all'attacco Ma cosa aspetta Ok Questa è solo la prima parte Ma inizia la seconda parte Della boss fight finale Oddio è stato inghiottito A parte che io sono Gratito di recuperare Un bel po' di vita Anche se non so se è possibile Recuperare la vita Mannaggia Però se perdiamo Però non so Non è che Ricomincerò Da cavo Eppure magari Sarò una sorta di check Poi Non sono riuscito A schivare Quei raggi Ma Affanculo Ecco Non è che Arriva il primo Da cavo Ma no Non male che siamo Già arrivati Alla seconda parte Che devo fare qua Dio Dio Stavate a chiapparla Stavate a chiapparla Dio Cato che non ho una buona Mila però E baffanculo E baffanculo Lo metto pure a fare lo scarsone Ma adesso Ma perché non riesco A minare bene Cioè cerco di saltare pure Per schivare Sì ma io salto bene Ok Prima è andato Fatto Fatto che sempre che non riesco a giocare di me da qua Mi lo pure male Porca trovo E baffanculo A Vede ma se non devo Cioè a parte che non è possibile Recuperare la guida Qua 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 ma devo stare molto attento Qua Non solo l'errore può essere fatale Dai vedo Cioè ma Ma non guardate un po' Se Non devo ricominciare Da capo Cioè se Sono Non ho una Una mira schifosa Qua E lancio i nemici Per sbaglio lancio i nemici Sì ma io salto bene Come fa a coppire Va E sbaglio ancora E vaffanculo E per sbaglio lancio i nemici Fatto questo qui va Cioè ma perché miro male Oddio L'ho beccato dai E miro male Secondo me dovevo saltare Cus Boh Dai Pensiamo che non ci rimetto Di nuovo la pelle qua Ma che forse devo saltare Prendere l'angolazione giusta Sempre se ci riesco Vero poca altro Se no qua sta Sta let's play Non finirà mai Perché siamo già Dieci minuti Sotto andano O no Dei riflessi Della minchia Però Tipo che non ho Ok dai Pensavo che facevo Un altro attacco Porca Mannaggia a me Che ho una Che ho una pessima mira Dai Ma che mira di merda Che ho Dai Qua se non ha giusto un po' Con la mira Sta che è in pleno Fino Dai Ci siamo quasi Dai Sempre se prendo bene L'amica Però Porca troia E meno male che Dai Cioè che mira di merda Oh Non so quante volte ho detto Già Dai Dai Ma affanculo Fino ad adesso Sono riuscito a schifare Tutto Porca troia Non vorrei fare Poco adesso Questa figura Di merda Colossa Ma Porca Putta E devo Ricominciare Da capo Sono rimasto pure Con zero vite Ma se perdo Proprio adesso Poi Devo Ricominciare Tutto da capo La boss fight E mi rompo Le palle C'era C'era Quasi Poi A parte che Fosse Non è fino a Perché C'è Anche la La terza fase Della boss fight Credo E porca troia Guarda che mira schifoso E ci rendiamo Poi 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 Ok. Sono una mita proprio schifosa Dai Intanto sono proprio spese di gemme invisibili credo Ma adesso perché mai muoio meno con la gemma Sarà difficile la coppia Dai Ma porca troia Prendo pure male la mia Non ci credo Dai Ma porca puttana no dai Ci siamo vivati Cioè è bello che prendo pure No dai Devo rifare da capo la boss fight Non ci credo Ecco Vedo un po' se devo tagliare sta parte Certo Ciao.